Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Oggi il museo racconta vi porterà alla scoperta del busto nudo raffigurante Angelica, proveniente dal teatro di Gasperi Canino e resalente al XIX secolo. Nella storia dei paladini di Francia, il personaggio viene utilizzato nella rappresentazione del famoso episodio dell'orca marina, inventato da Ludovico Riosto nell'Orlando Furioso che ricarica l'episodio mitologico di Perseo che libera Andromeda dal bustro. Il pupo, alla testa con i capelli castani intagliati, è un piccolo diadema scolpito sulla fronte. Il vestiario si limita a una fascia nodata che accinge fianchi e a dei calzari scolpiti nel legno. Rappresenta Angelica, costruita per un episodio particolare. La storia narra che i corsari dell'isola di Buda, chiamata anche l'isola del pianto, in omaggio a quanto stabilito da Proteo, devono dare in pasta ad un mostro marino una bella ragazza. La prima ad essere catturata è Angelica, che viene denudata e incatenata ad uno scoglio. La salverà Ruggero, giunto in volo all'ippogrifo, che stordirà il mostro abbagliandolo con i riflessi dello scudo di Atlante, ricacciandolo così in fondo al mare. Il pupo veniva utilizzato anche per Olimpia, che venutasi a trovare nella medesima situazione, viene liberata da Orlando, che uccide la Lorca con un'ancora, configgendogliela tra le fauci in maniera tale che non possa più chiudere la bocca. Nel teatro dell'Opera dei Pupi di tradizione palermitana e catenese, oltre all'uso dell'ancora, spesso i pupari per dare gloria ad Orlando, facevano sì che l'orca venisse uccisa dalla Dorlindana, famosa spada di Orlando. Era uso comune sia nei teatri palermitani che catenesi utilizzare lo stesso busto di donna per il personaggio di Angelica e Olimpia, con semplice cambio della testa. Grazie. 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 Grazie.